Siamo un bel gruppetto oggi Ho sempre fatto dei bei percorsi e non sei venuta ma guarda se lo puoi dire Giovanni siamo stati bravi Siamo stati bravi vero Diana? Maria Angela verrà tra un po' dovrebbero aver superato non di nulla perché ho l'audio acceso Questo è un percorso avventuroso sembra essere persone serie sembra di essere le veri indiana jones Siamo delle felci che ogni tanto si scade inciamparci se ti fanno elastico sotto stanno legaccio Sì sì vedo No no ti danno noia? Ti danno noia? Io penso che ti serva Ma no a te c'hai le scappe lisce Io sono le scappe già che tengono di più e meglio Eh certo ma devi lasciarti andare Fai tanti passettini veloci un accanto all'altro Ti tengo anch'io di dietro Ti tengo anch'io di dietro Fai passettini 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 brava brava Se fai passettini veloci non caschi Comunque questo pezzo nelle felci è meraviglioso E ci credo spesso un branco di soldi per metterle Tutte a piantarle una a una poi Levarle dal vaso Ma che bravi Siamo stati bravi Sì